Gli equilibri economici di un territorio dipendono da un'imprenditorialità che vuole superare momenti di crisi e puntare alla ripresa con ottimismo e fiducia. In questa direzione punta adesso il nuovo presidente di Confcommercio, Leo Piscitello, che questa mattina è succeduto a Sandro Romano. Lungo percorso come presidente di Confcommercio, tante battaglie e tante arrabbiature alla fine? No, arrabbiature no. Battaglie che contestualizzate in quel momento erano impegni che andavano svolti, fatti e che abbiamo portato a buon fine. Due mandati, anche se ho anticipato in linea e in coerenza con il mio modo di essere, perché squadra che vince si cambia, perché solo cambiando si migliora. Io ho dato otto anni, quello che ho fatto è alla storia, di più non potevo dare e ho ritenuto opportuno fare un passo indietro, anche perché in un mondo che cambia, con dinamiche diverse, se come in questo caso, saggiamente è stato indicato e scelto Leo Piscitello, è la persona giusta che sicuramente al momento riuscirà e gli augura di fare meglio di me. Cambio il vertice di Confcommercio, cosa l'aspetta adesso? Già un'agenda? Intanto volevo dire che sono veramente onorato di poter rappresentare la Confcommercio di Siracusa, che è la più grande organizzazione di categoria datoriale della nostra provincia. Cosa ci aspetta? Quali sono le sfide per il futuro? Noi immaginiamo di perseguire due tipologie di obiettivi. Un obiettivo interno è rafforzare la Confcommercio, aumentare i servizi ai nostri soci e aumentare anche la formazione per gli imprenditori o per i nuovi imprenditori. All'esterno invece cosa vogliamo? Vogliamo riprendere i contatti con le altre associazioni di categoria, ristabilire un dialogo proficuo per il nostro territorio, confrontarci con i candidati, ora che ci sono sindaci a sindaco, per dare la nostra idea e il nostro progetto di città. Sebbene la Confcommercio è, e non può che essere, una grande associazione indipendente ed equidistante della politica, riteniamo utile il confronto con i nuovi, diciamo, con il futuro sindaco.